L'amministrazione comunale di Senigallia si è posta da tempo il problema di adeguare il piano regolatore generale della città alle sempre più pressanti esigenze di aggiornamento territoriale, consultazione e chiarezza di lettura che venivano rappresentate dai cittadini, da associazioni, dai tecnici e dai soggetti comunque interessati. In sintesi una variante al PRG per la trasparenza e la riduzione del consumo del suolo che aiuti ad agevolare il lavoro dei professionisti interessati e aumenti la partecipazione dei cittadini al governo del territorio. Sindaco, consumo zero, innanzitutto che cosa significa? Significa che questa amministrazione pensa a recuperare delle aree che sono in degrado, che non sono più utilizzate per le finalità iniziali e destinarle ad altro prima di consumare altro territorio. E questo nello specifico per il cittadino che concretezza ha? Perché noi abbiamo abbinato a questa ipotesi di lavoro iniziale anche altri provvedimenti come quella della possibilità di non pagare lici su aree che sono oggi edificabili, che invece per attività diretta del cittadino possono ritornare ad essere terreno agricolo o verde privato inedificabile e quindi andare incontro a una serie di esigenze di tanti cittadini che magari si trovano con fruste di terreno o dentro con parti edificatori che non riescono ad attivarsi. Con questa norma che abbiamo provato e adottato in Consiglio Comunale, con una semplice osservazione, si può retrocedere il terreno e quindi facilitare questo tipo di percorso. D'altra parte va sottolineato che i nuovi strumenti informatici di gestione del territorio hanno evidenziato la carenza di aggiornamento della base territoriale ferma all'apposito rilievo eseguito nel 1972 i mancati adeguamente delle PRG alle trasformazioni urbanistiche pubbliche e private. Una situazione che mette in evidenza evidenti disallineamenti tra la reale costituzione del territorio e la rappresentazione grafica posta alla base del sistema normativo che ne disciplina gli usi. Sviluppare le città senza intaccare nuovo territorio, territorio agricolo, ma andando a recuperare volumi esistenti e restaurare pezzi di città già esistenti. Quindi consumo zero significa non consumare più territorio, lasciare intatto il paesaggio agrario, lasciare intatto l'ambiente. Alla luce delle esperienze di questi ultimi anni è stato avviato un procedimento finalizzato all'adeguamento del PRG vigente sulla base della rinnovata lettura dei dati territoriali, determinata dalla cosiddetta cartografia numerica. La tematica di non consumare più territorio è una tematica che si può sviluppare con due elementi. Un primo elemento è un elemento strategico, quindi non una previsione di piano regolatore, ma una strategia che viene attuata con una serie di atti. La strategia viene attuata pensando di non ampliare la città edificata, ma incentivare il restauro, il recupero del centro antico, in questo caso a Senigallia, dei quartieri residenziali, di volumi in degrado. Poi a livello di piano regolatore abbiamo attuato una variante che è in corso d'opera e sulla quale i cittadini potranno intervenire entro il 15 dicembre perché con questa variante abbiamo trasformato in modo assolutamente innovativo terreni edificabili in terreni agricoli o terreni a verde privato inedificabile. I nuovi sistemi di reperimento e verifica dei dati consentono agli uffici comunali innanzitutto e agli altri soggetti che accedono a questo tipo di informazioni, opere pubbliche, l'ufficio del traffico, gestione dei pubblici servizi e altri, un agevole e corretto riscontro tra le proprie iniziative e le varie tematiche territoriali, raggiungendo maggiori livelli di efficienza e consentendo una gestione e una programmazione moderna del territorio. Ci sono una serie di vantaggi, intanto quello di carattere generale che significa preservare il nostro territorio da un consumo che non possiamo più permetterci, dall'altra invece il vantaggio importante per tanti cittadini perché in questi momenti di difficoltà economica pagare lici per aree che non possono trovare un riscontro diretto nella realizzazione delle previsioni del piano regolatore significa alleggerire i nostri bilanci e quindi dare qualche occasione in più ai cittadini. La variante alla vigente piano regolatore riguarda tre azioni distinte ma unificate dall'obiettivo di migliorare l'azione complessiva dell'azione amministrativa. La prima è caratterizzata all'uso informatizzato delle PRG, la seconda nell'adeguamento della planimetria di piano all'espressione formale del Consiglio Comunale, la terza riguarda invece l'inserimento nelle PRG delle opere di competenza statale approvate secondo le procedure per l'ampliamento della terza corsia autostradale e relative bretelle di collegamento alla viabilità primaria. Quei cittadini che sono oggi proprietari di terreni edificabili e che non hanno interesse a dare attuazione a quelle previsioni perché il terreno non ha quell'appetibilità, perché in un momento di crisi economica non si hanno le risorse per intervenire possono formulare osservazioni presso l'ufficio urbanistica entro il 15 dicembre In questo senso i nostri uffici sono disponibili a dare tutte le indicazioni che servono per trasformare il proprio terreno da terreno edificabile a terreno agricolo, a terreno a verde privato inedificabile. Credo che sia una buona risposta perché è fatta con il consenso del proprietario e anche tenuto conto dei tempi, tempi di crisi economica, tempi che ci richiedono di preservare l'ambiente e il paesaggio della nostra città. La riduzione del consumo del suolo è dunque un nuovo e più moderno modo di lavorare che permette di agevolare il lavoro dei professionisti interessati ma soprattutto aumenta la partecipazione dei cittadini al governo del territorio.